Un doppio presidio davanti alla sede dell'Ordine dei Medici di Salerno ma anche in Vianizza davanti alla sede dell'Aslo con tre parole d'ordine. No Green Pass, no vaccinazione ma soprattutto sì all'autonomia professionale dei medici. Il dottor Gerardo Torre, il camice bianco di Pagani balzato agli onori della cronaca nazionale per la sua ribellione contro le procedure adottate ed imposte ai medici nella gestione dei protocolli covid, insorge di nuovo contro il sistema sanitario che continua dal suo punto di vista ad imporre scelte che il medico definisce politiche non tecnico-scientifiche. Questa volta l'attacco non è all'ordine che aveva minacciato di radiarlo dopo una serie di parole non proprio felici nei confronti dei colleghi ma poi lo aveva solo ammonito ma è indirizzato direttamente all'attenzione del ministro della salute. Stamattina sto cercando disperatamente di chiedere sia all'Aslo e sia all'ordine di lasciare libera la valutazione professionale del medico e non seguire dei canoni o degli ordini che bloccano completamente e diventa tutto un fatto politico poi imposto. Lei è anche contro l'obbligo che permane per gli operatori sanitari di Green Pass e vaccini? Ma assolutamente sì, noi dobbiamo avere una nostra libertà di valutazione, cioè io dico se lei che è una mia paziente si deve sottoporre la vaccinazione dovrebbe essere presa sotto braccio da me medico e decidere insieme se lei è un soggetto da vaccinare o meno. Io non sono contro, badate bene, il rapporto vaccinale, io sono contro la dozzinalità e l'impositor vaccinale che è una cosa diversa. Allora permettete che ho la possibilità etica, la possibilità scientifica di decidere il mio paziente se ha la possibilità di sottoporsi o meno a rapporti, come dire, terapeutici che siano anche preventivi che sarebbe la vaccinazione. Mi posso permettere di valutare una persona che va vaccinata e un'altra no? Ma questo non ce lo permettono. Ma mentre Gerardo Torre continua a non definirsi Novax, specificando le differenze, le sue posizioni vengono sostenute e condivise soprattutto da persone contrarie alle vaccinazioni. Sono d'accordo perché il medico deve fare il medico, non deve essere impedito di non fare il medico, non so se è chiaro questa cosa. Poi i cittadini vanno istruiti su come potenziare il loro sistema immunitario a livello di mainstream o di media e non lo fanno questo qua. Poi ti vogliono imporre una vaccinazione di massa, con quale scopo? Lei si è vaccinato? No, perché sono contrario, perché io sono sano, mi so curare. Non ha avuto il Covid? Ha avuto il Covid? No, ho avuto una tosta soltanto nel 2020, a gennaio, per 20 giorni. Me la so curata da sola e mi è scomparsa da sola. Perché lei è qui? Io rappresento il partito 3V, sono il coordinatore regionale del partito 3V. Siamo qui, affianchiamo il dottor Torre, semplicemente perché è un medico che vuole fare la sua professione, non vuole fare il passacarte e seguire soltanto i protocolli che probabilmente anche questi protocolli andrebbero rivisti. Il dottor Torre sta dicendo solo questo e noi appoggiamo la sua richiesta. Tutto qui, un vaccino... Direi Benovac se il dottore Torre... No, io lo definirei un professionista che tutti i medici dovrebbero fare quello che ha fatto il dottor Torre, non seguire soltanto delle indicazioni, anche perché le indicazioni potrebbero essere anche sbagliate.